Si tratta di una macchina per cuciture ricamo due in una che incorpora molte funzioni esclusive per soddisfare tutte le esigenze degli amanti del cucito, delle trapuntature con patchwork e del ricamo a macchina. Questa macchina offre funzioni esclusive come il codolo a braccio lungo con un ampio piano di cucito rimovibile. Punti da 9 mm, tagliafilo automatico, spoletta facile da impostare, pedale largo, sistema di alimentazione a tensione automatizzata utilizzabile in tutto il mondo e molto altro ancora. Questa macchina è dotata di accessori utili, sono inclusi diversi piedini esclusivi. Siamo sicuri apprezzerete la scelta di una macchina Genome che vi porterà nel fantastico mondo dei ricami domestici e delle trapuntature.